Ciao a tutti sono Bonf777, benvenuti nel quindicesimo episodio della mia carriera allenatore con il Borussia Dortmund Abbiamo l'Underlecht, abbiamo la Champions Questa partita come già detto nello scorso episodio è fondamentale Perché in caso di vittoria siamo, se non sbaglio, matematicamente qualificati per gli ottavi Però voglio farvi vedere come ho cambiato modulo perché me l'avete consigliato voi Sto provando questo 4-3-3 e anzi io vi ricordo di consigliarmi altri moduli che secondo voi potrebbero essere buoni Sì dai dai nessun cambio, giochiamo proprio così con i titolari Ok eccoci qua, è partitolino della Champions No no in realtà non si è neanche sentito Però noi arriviamo a 100 mi piace Cioè arrivate almeno 100 mi piace Dai vedo che si stanno un po' abbassando i mi piace per la carriera Lo so che è una cosa lunga e sia normale che si abbassino Però arriviamo a 100 mi piace perché come sempre ci saranno due episodi a settimana in questa carriera Obamayang avanza Occhio che è un altro passo proprio Obamayang entra in area Obamayang mette il cross C'è Dybala che va di testa ma pronto Sventa tutto Pensare che potevamo già essere agli ottavi Però niente Cioè già essere agli ottavi matematicamente Solo che quella sconfitta con l'Olympiakos Veramente immeritata C'ha almeno rimandato i piani Vai Royce che adesso è in un tridente in attacco Quindi potrebbe fare molto più male Io voglio sfruttare di più Royce Che però si va a schiantare No ho cambiato modulo perché appunto volevo sfruttare più Royce Speriamo di farlo così Vai Hawa Avanti Obamayang Ancora Obamayang Ma quanto è veloce Obamayang In area Obamayang Obamayang La parata ancora di Proto Occhio Alaba Alaba Altro angolo Ancora Obamayang Non riusciamo Vai De Bruyne Dai ci vuole il suo cross Eccolo Alaba ancora Alaba ancora Proto Finisce qui il primo tempo 0-0 Il Barca e l'Olimpio Cospareggiano Si non cambierebbe niente In classifica Però Cioè possiamo approfittarne E vincere E ora fa girare palla Landerlecht Per cercare spazi Forse che io non gli lascio Occhio che recupera De Bruyne Ancora di bala Il tocco per Ramirez Stavolta Dentro di nuovo Per l'ex Palermo Eh no Siamo al 77esimo Dai abbiamo ancora 13 minuti Dentro per Kagawa Appena entrato Reus Dai ultimo minuto Vai Reus andiamo Reus In velocità Reus Reus Mette il cross Sarà angolo Aubameyang Sulla fascia Aubameyang Sfrutta la velocità ancora Aubameyang Lancia via Ignorantissimo Landerlecht Ma finisce qui 0-0 Il pareggio con Landerlecht Che schifo Vediamo cosa ha fatto Barsa Che ha perso Contro l'Olimpia Cosp Attenzione Perché si complica tutto Cioè si complica Si decide tutto all'ultima Vediamo quando si decide tutto Qua proprio contro il Barcellona Al momento No perché siamo fuori Ah per le scontri diretti forse Mamma mia Occhio Occhio Cioè Praticamente chi vince tra Barca E Borussia Dortmund Va Insieme all'Olimpia Cosò Incredibile Abbiamo proprio buttato punti Vabbè Adesso abbiamo Later al Francoforte Torniamo a pensare al campionato A Barcellona ci pensiamo Tra un bel po' Siamo sempre lì Siamo terzi A meno Undici Addirittura dal Bayern Mamma mia Quanti No anche stavolta Faccio giocare i titolari Ci serve tantissimo Una vittoria Andiamo Dai 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 Adesso nessuna pietà Dobbiamo vincere Per forza Ma come ho fatto A buttare punti Contro l'under Di merda Ma perché Cioè a sto punto eravamo Quasi Sì Eravamo praticamente Agli ottavi Quasi Eravamo molto vicini E invece no Mi ha pareggiato Dai Royce Dai Royce Dai Royce Dai Royce 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 In area Royce Royce Fermato Non crossa Non crossa Un'altra volta Royce Stavolta non possiamo sbagliare Royce 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 Una parata Una parata Ma dai Aubameyang Aubameyang Alla Royce Aubameyang Ancora La mia freddezza Sottoporta 100% Finisce il primo tempo Il Bayern perde Occhio Occhio Buona palla Per Aubameyang Stavolta Ancora Aubameyang Che viene fermato Per angolo Un'altra volta Aubameyang Che entra in area Aubameyang Wittwald Ancora De Bruyne De Bruyne Calcia Sfonda Balla De Bruyne Fai un'altra volta Dentro E dai Aubameyang Mamma mia E' il terzo Poi il tiro Ancora Non riesco a segnare Ma com'è possibile Faccio 50.000 Tiri Ancora Aubameyang Ancora Aubameyang E' un'altra parata Da quando Di Balla è diventato Un pezzo di legno Non riusciamo più a segnare Lui non segna più Proprio E noi Non vinciamo più La super Campbell Che ci arriva Campbell Pensiamo bene A cosa fare Campbell Sarà un altro angolo Finisce qui Che schifo 2-0-0 Fa reggire Proprio ai massimi livelli Questa Una tristezza Guardate quanti tiri Poi ho fatto Soprattutto nel secondo tempo Però niente Il Balla ha perso Comunque Ci abbiamo guadagnato Un punto Eh Tanto Però siamo caduti quarti Siamo tutti là vicino E nella prossima Abbiamo Vediamo che abbiamo Nel prossimo episodio Abbiamo l'Offenheim Che è settimo Sì Ok E' fattibile Tra un po' Tra l'altro Riparte il mercato Ok Nella prossima abbiamo L'Offenheim E signori Abbiamo il Barca Quindi nel prossimo episodio Si decide Se passiamo O no Agli ottavi Oh 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 E quindi per questo quindicesimo episodio E' tutto Arriviamo a circa 100 mi piace Per avere il prossimo E se il video ti è piaciuto Mettemi piace Iscriviti al mio canale E commenta Da bon 777 E' tutto Ciao a tutti